Di cosa si occupa la vostra azienda? Marchesini realizza linee per il packaging farmaceutico e cosmetico, è nata nel 1974 e fattura circa 500 milioni. Come sta andando in questo periodo per Marchesini? Il mondo del packaging farmaceutico è anticiclico, per cui noi anche quando il settore economico-industriale non va benissimo, noi normalmente andiamo bene, quindi siamo fortunati, è un settore privilegiato e continuiamo a crescere, anche perché tutto ciò che è farmaceutico è un po' legato all'invecchiamento, un po' legato ai paesi emergenti, attrae in atto dai fattori principali. Quindi abbiamo anche delle prospettive positive? Sì, il settore farmaceutico e cosmetico sono sicuramente uno dei settori di eccellenza dell'Italia, abbiamo tante realtà in Italia sia nel mondo delle macchine che proprio nel mondo dei produttori dei farmaci, per cui siamo un paese da questo punto di vista molto forte. Cosa possiamo dire della collaborazione con Ciga Impianti? Ciga Impianti è una realtà con cui noi collaboriamo da tanti anni, io la conosco personalmente veramente da tanto tempo, è un'azienda molto seria, molto professionale, importante soprattutto per le realtà che hanno una forte crescita come ha la Marchesini, perché è una collaborazione che permette di avere delle risorse disponibili per il montaggio delle macchine qualificate e questo è un grande valore. Domani è un altro giorno e noi siamo pronti.